Ma bentornati su WhatsApp Economy e no, non ho comprato 10.000 euro in BTP anche perché sono uno studente fuori sede e quindi già di per sé non potrei mai avere 10.000 euro e per di più, per diventare ancora più povero, ho aperto una società che si chiama MinesFood.it e quindi non avrei mai la possibilità di comprare 10.000 euro in BTP anche perché di questi tempi, eh, non so quanto ne conviene Ultimo appunto, se sentite questo rumore mi è venuta la perversione per le birre fatte in casa e ne sto producendo una attualmente ed è in camera da letto quindi ogni mattina mi piace alzarmi con l'odore del lievito sa di vittoria, no? è già così, vero la frase? quindi oggi anderemo ad analizzare in particolare come si finanzia lo Stato italiano purtroppo devo andare un po' sul tecnico quindi sarà una puntata forse un po' più pallosa rispetto alle altre però se volete sapere come funziona un po' più precisamente i meccanismi di finanziamento di uno Stato questi sono e purtroppo non li posso cambiare per renderli un po' più divertenti e quindi iniziamo innanzitutto dovete sapere che lo Stato non si finanzia tutti i giorni bensì ha delle date precise in cui emette titoli di Stato e li emette in un modo particolare che viene definita Asta ci sono due tipi di Asta e noi andremo ad analizzarne solo una per rendere la trattazione più semplice anche perché è l'asta più famosa e si chiama Asta Marginale quindi lo Stato imposta determinati giorni in cui apre queste Aste però non le apre a tutte le persone o a tutte le società ma le apre a dei determinati istituti finanziari specializzati ora qualcuno dopo questa affermazione si starà strappando i capelli però è tutto normale e ha tutto un senso perché si fa questo? ovviamente per una questione molto probabilmente di ordine perché immaginate se aprisse un'asta per 60 milioni di abitanti di società sarebbe un bel casino e poi una questione di costi di transazione infatti ogni emissione di un titolo di Stato ci sono dei costi di transazione e ovviamente meno transazioni si fanno e più diminuiscono i costi di transazione quindi è anche conveniente per lo Stato fare meno transazioni possibili per questo si raggruppano determinati investitori che possono acquistare grandi quantità di titoli di Stato parliamo di cifre anche sopra il milione di euro quindi se tu non puoi acquistare più di un milione di euro non puoi accedere a quell'asta però noi siamo esclusi da quest'asta cioè io se voglio acquistare 10.000 euro in titoli di Stato posso acquistarli al momento dell'emissione? ovviamente sì non è vero come ho sentito in un video che è diventato molto popolare su YouTube che in quest'asta possono partecipare solo le istituzioni finanziarie e solo quelle io posso mandare una delega nei confronti della mia banca o del mio istituto a comprare 10.000 euro per me ovviamente poi lei andrà a partecipare all'asta acquistando magari 10.000.000 di euro perché ha ricevuto mille deleghe quindi se io voglio acquistare fin dall'inizio un titolo di Stato posso farlo vado semplicemente in banca e gli dico di acquistare 10.000 euro per conto mio e lei stai sicuro che lo fa quindi fino adesso abbiamo visto chi può partecipare a queste aste possono partecipare solo gli istituti finanziari specializzati però possiamo partecipare anche noi attraverso appunto questi istituti specializzati anche perché pochissime persone si potrebbero permettere cifre tipo un milione di euro di BTP da acquistare perché sono quelle le cifre minime per poter accedere a quel mercato e quindi si fa una semplice intermediazione però ancora non abbiamo visto come funziona effettivamente quest'asta marginale e andiamo a fare un esempio per essere un po' più chiari abbiamo lo Stato che ha un'esigenza temporanea di un milione di euro e fa affidamento ai titoli di Stato per recuperare questi soldi quindi indice un'asta dal valore appunto di un milione di euro in cui possono partecipare solo determinati investitori nel nostro esempio ne parteciperanno tre questi tre investitori poco prima dell'asta faranno la propria offerta indicando la quantità in euro che vogliono acquistare in titoli di Stato e anche il relativo prezzo una volta che inizia l'asta lo Stato prelidige prima le proposte che hanno un prezzo più basso quindi le proposte delle tre banche sono queste prima arriva Banca Intesa che si prende 700.000 euro di questo un milione messo a disposizione dallo Stato successivamente cosa si fa? si vede qual è il prezzo più basso o dopo il 99,1 che sarebbe ovviamente 97,4 e quindi verrà soddisfatto Unicredit però Unicredit ovviamente non verrà soddisfatto per 400.000 ma per 300.000 perché attualmente lo Stato di quello ha bisogno e quello emetterà con l'asta marginale il meccanismo di scelta del prezzo è il seguente cioè si prende il prezzo più basso e lo si applica a tutti gli investitori quindi anche Banca Intesa non riceverà i titoli di Stato al prezzo di 99,1 ma al prezzo di 97,4 ora perché si utilizza questa asta marginale che come abbiamo visto permette allo Stato di vendere dei titoli di Stato a un prezzo maggiore rispetto a quanto gli investitori chiedono infatti come abbiamo visto Banca Intesa si accontenterebbe di un titolo di Stato al costo di 99,1 che è molto basso invece diamo un titolo di Stato dal valore di 97,4 questo significa che stiamo spendendo molti più soldi rispetto al normale ora a più macchitto si potrebbe pensare che siamo stupidi e ci siamo bevuti il cervello però non è così ho cercato di informarmi su perché si fa questa procedura e le teorie sono abbastanza complesse però diciamo che il meccanismo dietro quest'asta marginale incentiva gli investitori ad alzare il prezzo più di quanto lo avrebbero fatto senza questa asta marginale e capite bene che se l'asta marginale spinge gli investitori ad aumentare il prezzo quello che ne guadagna ovviamente è sicuramente lo Stato tutto questo meccanismo che abbiamo appena descritto avviene nel cosiddetto mercato primario cioè nel mercato in cui vengono emessi i titoli di Stato però non è in questa fase che si calcola lo spread ma si calcola in una fase successiva infatti si calcola nel mercato secondario adesso andiamo ad analizzare anche come funziona il mercato secondario quindi siamo arrivati al punto in cui ho comprato 10.000 euro di BTP tramite una delega fatta alla mia banca che ha acquistato per me nel mercato primario i miei titoli di Stato passa qualche mese e mi si rompe la macchina quindi ho bisogno di questi miei 10.000 euro perché devo comprarmi una macchina nuova ad esempio e quindi devo ovviamente vendere i miei titoli di Stato per recuperare i soldi che avevo precedentemente investito ovviamente vado alla mia banca e gli chiedo di vendere i miei titoli di Stato questa la venderà appunto nel mercato secondario il mercato secondario è il mercato in cui avvengono le compravendite dei titoli di Stato questo mercato secondario è caratterizzato da due figure che i film che trattano di economia e finanza hanno reso celebri e sicuramente ne avete sentito anche parlare questi sono i dealer e i broker entrambi hanno la stessa funzione cioè quello di far incontrare domande e offerta di titoli di Stato però con una differenziazione principale e cioè i dealer acquistano titoli di Stato e li rivendono a quelli che non hanno bisogno e il loro ricavo è appunto il differenziale tra l'acquisto e la vendita di questi titoli mentre i broker fanno semplicemente incontrare chi è in possesso i titoli di Stato e chi li vuole acquistare e poi si prende una provvigione quindi la differenza è che i dealer acquistano i titoli mentre i broker no fanno solo un meccanismo di intermediazione se volete approfondire tutti questi discorsi che sto facendo di economia e finanza questo libro qui che trovate anche in descrizione acquistatelo perché è veramente ottimo e vi può salvare la vita se siete in preda di complottismi vari riprendiamo l'esempio di prima e io ho 10.000 euro in BTP però io dico che quando raggiungono il valore di 12.000 euro questi miei titoli obbligo il trader a venderli cosa succede? succede appunto che il trader cerca di vendere i titoli a quella cifra ci saranno molte persone che vogliono vendere e poche persone che vogliono acquistare e quindi avrò molte più difficoltà a vendere quindi sono costretto a dire sotto gli 8.000 euro vendi però anche qui ci sono più persone che vogliono vendere rispetto a quelle che vogliono acquistare ed è molto difficile vendere e quindi capite che man mano il prezzo scende fino a quando non troverò effettivamente un compratore che è interessato al mio titolo di stato con questo meccanismo si può spiegare efficacemente come si influenza il tasso di interesse di un titolo di stato quindi se ci sono più venditori rispetto ai compratori generalmente il prezzo scende il prezzo del titolo di stato scende e quindi aumenta il tasso di interesse se aumenta il tasso di interesse il mio spread aumenta ora una piccola precisazione questo mercato secondario lo stato italiano non ci perde o non ci guadagna nulla infatti il suo guadagno è avvenuto tutto nel mercato primario se nel mercato secondario i suoi titoli di stato vengono venduti a più 100% o meno 100% a lui non gli interessa nulla perché ripeto il suo guadagno è stato già realizzato nel mercato primario qual è l'unico problema? il problema è che lo stato italiano dovrà rifinanziarsi una seconda volta una terza, una quarta, un sacco di volte e dovrà aprire altrettante aste gli investitori istituzionali che andranno a partecipare a quell'asta molto probabilmente offriranno dei prezzi che sono in linea con quelli del mercato secondario quindi se il mercato secondario al momento in cui apro l'asta è in ribasso del 30% anche i prezzi del mercato primario molto probabilmente saranno a ribasso del 30% ed è qui che avviene la perdita nei confronti dello stato se io acquisto dei titoli di stato a 10.000 euro dal mercato primario magari dopo due mesi ho intenzione di venderli però so già due mesi nel momento in cui l'acquisto che i titoli di stato valgono 8.000 euro magari ovviamente sono uno stupido se li comprerò a 10.000 euro perché avrò una perdita di 2.000 euro in soli due mesi quindi c'è questa relazione molto forte tra mercato secondario e mercato primario solo che nel mercato secondario si formula lo spread e c'è la variazione dei testi di interesse che poi influenza il mercato primario e niente questo è tutto questo è un po' il meccanismo un po' contorto ovviamente ho cercato di riassumere molto brevemente i meccanismi sono molto più complessi però diciamo che quello da sapere sarebbe questo secondo me sono dei concetti molto importanti e che tutti gli italiani dovrebbero conoscere perché è come non sapere come guadagna nostro padre insomma insomma sono concetti abbastanza è vero magari anche un po' complicati per chi non è del mestiere però un minimo bisogna conoscerli per capire come possono essere influenzate le finanze di uno stato è importante saperlo spero che io mi sia spiegato abbastanza bene e se non l'ho fatto scrivetelo nei commenti e ne discutiamo ciao